Buongiorno, questa lezione fa parte del modulo RETI, nuove tecnologie e politiche sociali è la seconda clip della lezione su governo digitale e stato partner ed è dedicata al concetto di stato partner. Il termine stato partner è emerso nell'ambito di uno specifico dibattito di studiosi e imprenditori che riflettono sulle conseguenze di quella che è chiamata l'età dell'informazione, l'età dello sviluppo delle ICT. Questo è il motivo per cui abbiamo premesso una clip legata al tema del governo digitale proprio perché c'è un collegamento tra lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il modo in cui queste influenzano le organizzazioni pubbliche e l'evoluzione del dibattito su stato partner. Secondo Michael Bowens, che è stato uno dei principali autori che ha sviluppato questo concetto e che ne ha proposto la rilevanza, lo stato partner è da considerare una forma di stato che caratterizza il periodo di trasformazione sociale verso l'economia chiamata economia della conoscenza sociale. In questa direzione questo modello supera sia il modello del welfare state, sia lo stato mercato. Lo stato partner utilizza prioritariamente le risorse collettive, le funzioni, le politiche statali per abilitare e rafforzare un'economia basata principalmente sulla produzione sociale di beni comuni, common goods, ad esempio hardware e software open source, in modo tale da legittimare e integrare queste produzioni con l'economia di mercato. Come è possibile intuire, la proposta del concetto di stato partner fa parte più della teoria politica che della riflessione su esperienze del periodo recente, tuttavia ha una forte rilevanza nel comprendere le attuali trasformazioni del dibattito sul ruolo del settore pubblico. Ciò che è rilevante infatti in primo luogo è l'idea che le nuove tecnologie dell'informazione stiano cambiando nelle fondamentali relazioni tra stato e cittadini, che quindi il tema su cui riflette non è solo l'utilizzo dell'informatica per perseguire l'efficienza delle organizzazioni e l'efficienza nell'organizzazione dei servizi pubblici, piuttosto si sostiene le AST e l'economia, i gruppi sociali che si sono costituiti attorno allo sviluppo delle nuove tecnologie pongono con forza la questione della modificazione del rapporto tra stato e società e degli obiettivi delle politiche pubbliche. Una visione questa, che se ci può permettere una breve digressione, richiama quella dei teorici delle libertà digitali, se citiamo ad esempio la dichiarazione del 1996 a Davos di John Barlow, possiamo declinare una parte, che dice appunto, i governi derivano i loro legittimi poteri dal consenso dei governati. Voi non avete mai chiesto né ricevuto il nostro, noi non vi abbiamo invitato, voi non ci conoscete e nemmeno conoscete il nostro mondo, il cyberspazio non si trova all'interno dei vostri confini. Non pensate di poterlo edificare come se fosse un progetto di costruzione pubblica, non potete, è un atto della natura e cresce da solo grazie alle nostre azioni collettive. Quali sono le basi di queste posizioni? Il fatto è che l'economia basata sull'informazione da un lato si sviluppa anche su innovazioni che crescono dal basso attraverso la diffusione delle competenze, della conoscenza e necessita quindi della diffusione di capacità a costi bassi come software, codici, prodotti open source. E però dall'altro lato necessita di regole e supporto affinché la produzione e diffusione di beni collettivi non sia catturata da soggetti con obiettivi di lucro, ma al contrario vi sia una sorta di integrazione efficace tra economia sociale, l'economia cioè dei beni collettivi e l'economia di mercato. A partire da queste premesse il concetto di Stato Partner può essere utilizzato efficacemente nell'ambito di una riflessione sull'innovazione dei servizi pubblici e dell'organizzazione del settore pubblico, perché può essere collegato al più ampio dibattito che riguarda il governo delle politiche pubbliche e le relazioni Stato e società. Uno dei passaggi fondamentali a questo proposito è in particolare quello costituito dal dibattito sul concetto di governance. Un governance intende un cambio nelle modalità attraverso cui avviene il coordinamento tra Stato e società, poiché fa riferimento al fatto che i confini che prima dividevano in passato lo Stato e la società ora tendono ad essere più offuscati e mobili. In altre parole l'ordine che ne deriva non è imposto dall'esterno ma è il risultato di interazione fra diversi attori pubblici, privati e terzo settore. Questo significa l'identificazione di una serie di aspetti che caratterizzano l'età contemporanea. In primo luogo il fatto che le politiche pubbliche sono disegnate ormai e gestite da reti di attori, network si dice appunto, si utilizza il concetto di network, e cioè attori, vari attori pubblici in ragione delle molteplici fonti di potere, si parla appunto di politiche multilivello per fare riferimento ai diversi livelli di governo spesso coinvolti, locale, regionale, nazionale, sovranazionale, internazionale. Spesso sono coinvolti attori privati che provengono appunto dall'esterno delle istituzioni, privati privati come si suol dire, privati del terzo settore eccetera. Un secondo principio del concetto di governance è quello relativo al fatto che la responsabilità per trattare problemi sociali ed economici sono condivise ormai da network di attori in cui il confine tra pubblico e privato è a sé sfumato. Ad esempio la responsabilità e collaborazione richiesta ai cittadini per migliorare l'efficacia dei servizi di welfare, delle situazioni ambientali, il ruolo del capitale sociale nello sviluppo locale, l'importanza della cosiddetta economia sociale. Sono tutti esempi che caratterizzano questa situazione. Inoltre l'interdipendenza che lega le istituzioni con i soggetti esterni è un'ulteriore caratteristica. Le politiche pubbliche sono realizzate sempre più in cooperazione con altri soggetti, per cui le istituzioni non sono autonome nell'uso del potere, non possono comandare, devono negoziare, devono sottostare alle regole pattuite. Insomma, in altre parole, governance implica processi di interazione che coinvolgono varie forme di partenariato. Se quindi passiamo ad analizzare gli obiettivi del dibattito sulla Tato Partner, possiamo facilmente notare che molte delle caratteristiche che sono attribuite a questa forma, a questa ipotesi di relazione tra Stato e società, riflettono quanto il dibattito sulla governance ha fatto già emergere. In questo caso, tuttavia, l'enfasi sulle nuove tecnologie e dell'informazione aggiunge ipotesi nuove sulle domande che la società e l'economia pongono alle istituzioni pubbliche e sugli scenari di evoluzione delle politiche pubbliche stesse. In altre parole, si ritiene superata la contrapposizione bipolare tra Stato e società e la missione dello Stato, o che viene chiesta allo Stato, è quella di abilitare cittadini ed attori economici al fine di permettere loro di agire al meglio. Da questa idea di Stato Partner sono stati declinati alcuni modelli di collaborazione tra settore pubblico e società che vanno nella direzione di una interazione fruttuosa tra istituzioni, economie sociali ed economie di mercato, mobilitate dalle tecnologie e dell'informazione. I fini sono il miglioramento dei servizi pubblici, il sostegno allo sviluppo economico e sociale attraverso politiche pubbliche orientate all'innovazione, alla ricerca e alla diffusione della conoscenza. Consideriamo in questa lezione tre modelli derivati dal concetto di Stato Partner. Il primo è quello della economia collaborativa, sharing economy. L'economia collaborativa descrive una vera e propria transizione di sistema sollecitata e al tempo stesso abilitata dai fattori di ordine tecnologico, economico e sociale. In altre parole è caratterizzata dall'adozione di meccanismi di condivisione e di collaborazione tra cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni lungo l'intera filiera della produzione, del consumo e della distribuzione del valore. Il secondo modello è quello dell'open government. La gestione del bene pubblico, si sostiene, deve rispondere agli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'utilizzo di strumenti digitali è finalizzato quindi ad aumentare il grado di apertura e di accessibilità, proprio per rendere trasparente l'operato delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, tanto in termini informativi quanto in termini di partecipazione e di controllo dei processi decisionali. Infine, il modello dell'amministrazione condivisa. È un modello secondo cui gli amministrati diventano cittadini attivi e responsabili che, alleandosi con l'amministrazione, contribuiscono alla risoluzione di problemi di interesse generale, senza per questo implicare una de-responsabilizzazione delle istituzioni. Questi modelli hanno elementi comuni che portano ad una nuova definizione del ruolo che si configura per lo Stato e per le amministrazioni pubbliche in generale. La direzione intrapresa da diverse esperienze suggerisce, cioè, un nuovo modo di Stato portatore di nuove funzioni. Lo Stato diventa partner o partner state, ovvero diventa soggetto che detiene la funzione di stimolo dell'intelligenza collettiva, assumendo il ruolo di facilitatore e dove è necessario di guida e di abilitazione, verso la società, a punto diretta, nella transizione verso un modello collaborativo e di integrazione tra settore pubblico, economia di mercato e economia sociale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!